Via libera per le botticelle anche con il gran caldo. È quanto deciso dal Tar che con decreto cautelare urgente ha momentaneamente sospeso l'ordinanza con la quale la sindaca Raggi il 26 giugno scorso aveva stabilito il divieto di circolazione delle botticelle quando si verificano ondate di calore in città. È stata dunque accolta la richiesta dei vetturini che sollecitava la sospensione urgente del provvedimento sindacale che stabilisce fino al prossimo 30 settembre il divieto di circolazione qualora la temperatura risulti pari o superiore ai 30 gradi. Nel periodo di blocco della circolazione tra l'altro l'obbligo di garantire ai cavalli impegnati nell'attrazione pubblica idonea movimentazione mediante attività di traino di calessini omologati con il solo vetturino senza ulteriori passeggeri per non più di 30 minuti consecutivi nelle aree verdi urbane nelle prime ore del mattino e nelle ultime della sera. E per i cavalli impiegati nelle manifestazioni ludiche e negli eventi sportivi o agonistici l'obbligo dopo la performance di governarli immediatamente e ricoverarli in ambiente fresco ed areato. Il Tar ha considerato che nella specie sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza nelle more della celebrazione della Camera di Consiglio che è stata già fissata per il prossimo primo agosto.